L'estate, si sa, porta con sé un senso di libertà, ma ci sono libertà che nessuno può ne deve prendersi. Come quella di abbandonare sacchi di rifiuti sotto le finestre dei condomini di Via Cellini a Bassano. Una situazione che va avanti da diversi giorni. Sì, come minimo quasi dieci giorni, penso, minimo, ma di preciso non lo so. E la porcheria è ancora lì. Cosa dobbiamo fare noi? Gli operatori che fanno le raccolte, va bene, non possono loro tirare su i sacchetti così, ma fanno presente a chi di dovere che ci sono queste situazioni. I residenti chiedono un intervento tempestivo e risolutore. Il problema, in questi casi, deve essere preso in mano dall'amministrazione comunale, trattandosi di igiene pubblica. Un signore di sopra ha pulito il bidone dell'umido, aveva i vermi dentro. È rimasto là per terra, che ho le foto, ma penso 20 giorni a Anna. 20 giorni là per terra, tutto un immondiziaio che era una cosa spaventosa.